A seguito del precedente video sul lancio del Falcon Heavy è doveroso informarvi di fare maggior attenzione ai video dove il vostro credo non accetta l'evidenza di imbambolamento del sistema. Riassunto. A. Avviene il lancio del razzo. Il razzo curva e va a finire in mare aperto. La zona è quella del triangolo delle Bermude A. B. I razzi in caduta si spengono ma C. Fanno atterrare due fuochi che potrebbero essere appesi agli semplici droni facendo credere alla gente sul posto che si tratta di razzi. Vediamo uno dei tanti video prodotti dalla NASA. Fanno sempre sentire enormi esplosioni. Vi vediamo il video girato sul posto. Si sentono le onde del mare ma nessun botto di accensione. La NASA solo alla fine mostra i razzi perfettamente diritti. Se credete siano la stessa cosa, continuate a credere al sistema di ipnotizzazione di massi. Grazie a tutti. 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 Oh, come in down. Come on. Oh, look at that. One booster going down. Nice. And touchdown. And landing. Oh, my God. Touchdown of both boosters. Double sonic booms, baby. Unbelievable. I think it's a pro shot.